Partiamo dal presupposto che sono così bravo a cucinare che se vado a cucinare le uova e la cucina non va in fiamme è andata bene Ok, a quanto pare come prima cosa dobbiamo andare a tagliare la cipolla, va bene La cosa sembra facile, vai Ok Ce la possiamo fare, giuro Dobbiamo prendere la cipolla e dobbiamo tagliarla in questo modo, va bene, speriamo che ce la faccio Una Due Ok, prossimo, tagliare la cipolla così, oh la madonna, stai calmo, ok Aspetta, ok Eh, vabbè, domani, dammi un attimo che ci arrivo Com'è che fanno così? Aspetta, calma Giuro che sono vivo Dobbiamo andare a mettere il burro, ok Allora, credo che così tanto dovrebbe bastare, speriamo bene, veramente, ok Mamma mia, se non mi taglio sarò contento Ok Andiamo a girare tutto quanto, proprio così come fa mamma Non so, spero di non morire nel frattempo, ok Con calma Mi sei commesso troppo burro, non sono sicuro Allora, adesso, se non sbaglio, dobbiamo buttare le cipolle, giusto? Eh, sì, ok, va bene Oh, ok, sono bravissimo, lo giuro Vai Vai, vai, ok, calma Eh, eh, dov'era? Ci sono Allora, adesso Se non sbaglio, bisognava andare a fare Eh, la cipolla fino a quando non diventa dorata Che bello cucinare Mmm, non sono sicuro Credo che basti così Allora Aggiungiamo tutti gli ingredienti Vediamo un attimo cosa serve Ok, la cipolla ce l'abbiamo Ehm Pane, credo Ok Latte e uova Va bene Si dà il caso che abbiamo trovato in modo del tutto convenzionale questi ingredienti sul tavolo Quindi Allora Mi serve un coltello Ok, allora Vai qua Perfetto Ok Tu così Perfetto Ce la posso fare Spero Allora, io vado abbastanza ad occhio Non sono sicuro Quanto serviva Ho cercato di metterne tanto quanto era disegnato Anzi, fatto vedere sul gioco Metto tipo Così Ok, speriamo bene Veramente Non credo che dovrei farlo col coltello Ma tanto ragazzi qua non è che siamo professionali Quindi andiamo in questo modo Adesso Prossima cosa La prima cosa che mettiamo Dai andiamo secondo il gioco va Ok La cipolla Va bene Non è che ha proprio un aspetto tanto invitante questa cosa Però va bene Vediamo cosa ne esce Io questo avrei dovuto lasciarlo raffreddare Per caso Non sono sicuro Veramente Prossimo Pane Ok Allora di pane ne metto Così Sì va bene Ok Prossimo Latte 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 Basta spero E per finire Mamma mia La parte più difficile di tutte L'uovo Ok va bene Per favore Non esplodere Grazie Facciamo una cosa Facciamo così Allora Tu Vieni qua Faccio così Perfetto Vai dentro Ok Ora i miei istinti di ragno mi dicono che dovremmo mischiare tutto quanto suppongo Allora Alziamoci le maniche Ok Seguiamo la guida di mamma Madonna santa che schifo Come fa a farlo così velocemente io non capisco Adesso dobbiamo prendere la carne e ce la dobbiamo tirare da una mano all'altra mamma mia Allora credo che Così tanto basta Vai ok Allora così Non so cosa dovrebbe servire questa cosa Però va bene Non cambia niente Non si appiattiscono Maledizione Oddio stai fermo Stai calmo Ok Ok Ragazzi io non ho capito a cosa dovrei farlo questo a questo punto schiaccio e basta sinceramente poi non lo so andiamo speriamo che vada bene Ok l'ultimo passo dobbiamo andare a cucinare il tutto mamma mia per favore che sia buono Ok allora la prossima cosa è ovviamente andare a mettere questo abominio sulla padella quindi va bene speriamo bene Ok allora Tutto a posto sinceramente non so quanto tempo dovrei stare qui a friggerlo però ok Cioè aspetta ma tu mi stai prendendo per il culo io devo girarlo quello col cavolo Ce l'ho giuro che Calma calma ok 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 Calmo ok Ce l'ho fatta Ragazzi io sto facendo un grosso errore nella mia vita in questo momento Calmo Come si usa questa cosa aiuto Ma perché dalla parte sbagliata Va bene così va bene non lo giriamo ok a posto così mi piace così Dentro come si decisamente non si dovrebbe aprire suppongo però va bene Madonna Esci Ok Ok ragazzi adesso senza contare tutto il fungo che c'è per la cucina Facciamo la cosa più importante e spero di non morire Allora Vado eh Allora posso dire Se non guardate l'aspetto Non è male Comunque vado io come sempre spero che questo video vi sia piaciuto Se vi è piaciuto ho dato una zampata su mi piace Lasciate un commento Iscrivetevi al canale E noi ci vediamo nel prossimo video Fermo Arrivo Arrivo Ciao Ciao Ciao